CONGRATULAZIONI CAPITANO GORTON E lei invece cos'è? Come scusa? Per quanto mi risulta, lei ha ceduto a Pinguino l'intera GCPD. All'ingrosso. Lui che ne pensa? Beh, forse merito questo cinismo da parte tua, Jim. Ma voglio assicurarti, con la mano sul cuore, che questo non c'entra nulla con il signor Cabalpot. Non ruberò il posto a darvi. Qualcuno lo farà comunque, e fidati. Nessun altro candidato condivida la tua perplessità nei confronti di Pinguino. Dai, portalo con te. Se decidi, dovrai solo firmare sulla linea tratteggiata, e diventerai il nuovo capitano della centrale di Gotham.